Quando scende la tristezza in fondo al cuore, come vorrei... I giardini pubblici di Latia non sono stati realizzati circa 70 anni fa. Qualcosa in meno secondo il comune che nel 2019 ha concesso ad un privato il permesso a costruire un bar che sostituirà nel giro di pochi mesi una vecchia attività che era già chiusa da tempo. Qualcosa in più invece per chi via segnalazione ha allertato la soprintendenza. Mai interpellata dallo stesso ente. Il nodo è il vincolo sui beni con più di 70 anni. Tra questi, secondo il comune, non rientrerebbero i giardini pubblici. È una società che prima andò a rilevare la concessione del precedente titolare del chiosco e poi ha presentato presso gli uffici del comune le relative domande per essere autorizzato ad ampliare il chiosco. Ora, il responsabile dell'ufficio tecnico ha dato le autorizzazioni previste dalla normativa non ha ritenuto di interessare la soprintendenza preventivamente perché da ricerche effettuate, e ci sono dei documenti, praticamente la realizzazione dei giardini comunali non va oltre i 70 anni e pertanto non è assoggettabile alla disciplina dei beni culturali. Il bar realizzato dalla società Sugar sarà pronto in primavera. Una struttura nuova, moderna, che dovrà operare in un'area forse antica, forse solo vecchia, di certo poco curata da qualche decennio. L'ultima parola sulla vicenda spetterà appunto alla soprintendenza di Lecce, che dovrà stabilire se ci sia stato errore, incuria, leggerezza da parte dell'ente o piuttosto il semplice e giusto tentativo di fornire un servizio in un'area in cerca di una nuova e più moderna identità. Hanno più, hanno meno circa 70 anni fa, quando l'allora sindaco e compagno Muri realizzò i giardini pubblici. Finalmente, e questo è un bene, tornati al centro del dibattito e pure delle attenzioni.